Il progetto inerente al servizio civile presentato dal comune di Giungano, retto dal sindaco Giuseppe Orlotti, è il risultato primo in graduatoria per la provincia di Salerno, tra quelli presentati aderendo al bando della regione Campania. Approvata da Palazzo Santa Lucia con apposito decreto la graduatoria dei progetti proposti per l'anno 2019 dagli enti iscritti all'albo regionale per il servizio civile. In tale ambito il comune di Giungano, avendo candidato il progetto approvato con delibera di giunta dal titolo lotta per ogni studente con finalità di educazione, promozione culturale dello sport e lotta all'evasione all'abbandono scolastico, si è classificato primo in graduatoria per la provincia salernitana e al sesto posto tra i comuni aderenti al bando della regione Campania. Il progetto vedrà impegnati i cinque ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni, i quali avranno la possibilità per un anno di fare esperienza presso la pubblica amministrazione ricevendo un assegno mensile di un importo pari a circa 430 euro. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Orlotti che ha esternato con piacimento i funzionari che hanno collaborato recependo l'indirizzo dell'amministrazione comunale.